Danurasana Sdraiatevi sulla pancia Piegate le ginocchia e le gambe verso l'alto Afferrate le gambe con le mani dietro le caviglie Inspirando lentamente sollevate il corpo il più possibile con il peso sulla pancia Rimanete in questa posizione il più a lungo possibile Per la seconda parte di questo asana afferrate con le mani le dita dei piedi E poi sollevate il tronco il più possibile mentre inspirate e mantenete questa posizione Danurasana o la posizione dell'arco è estremamente benefica per rinforzare la schiena, gli addominali, le cosce e i muscoli delle braccia e delle gambe Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti